Siamo sempre in diretta qui da Sanremo, diamo uno sguardo ai tavoli rimasti in gioco, a questo EPT, facciamo una carellata proprio sui giocatori ancora in gioco per vincere il primo premio da 1.250.000 euro, una cifra enorme. Faccio fare proprio una carellata su tutti i giocatori, almeno anche da casa che ci sta seguendo su Pokeritaglio web, può trovare i propri bignamini su tutto il tavolo. Oggi ci giocheranno cinque livelli da 75 minuti, continuo il giro tra i tavoli. Lui, lui, lui rai sa, se di qui ha, lui rai su, ma con lui vol, e lui rai su. E termino la mia carellata con gli ultimi due tavoli.